Questo qui. Aspetta, dovevo ristemere? In un posto di tanto tempo fa. Devi chiudere gli occhi. Tu chiudi gli occhi, io voglio vedere. Dai, allora spingiamolo insieme. Chiudi gli occhi, devi chiudere gli occhi. Ci vuole un secondo. Oh mio Dio. Apri, apri, apri. Oh, dove siamo? Ci sono i dinosauri. Dove? Non vedi tutti questi dinosauri? Guarda dentro, guarda quanti dinosauri. Wow. Non li vedi? Sì. Andiamo, andiamo, andiamo. Ehi, stai attento. Che cos'è? Non mettere i piedi nel fuoco, siamo cavernicoli. Abbiamo bisogno del fuoco, non c'è l'elettricità, poi fa molto freddo, ok? Stai attento, attento. Oh, un dinosauro, quello. Prendi la tua roba, prendi la tua roba. Forza, svelto. Dobbiamo trovare un posto dove rifugiarci. Un posto come? Ci serve, ci serve una caverna. Una caverna? Dobbiamo trovare una caverna, andiamo. Ok. Andiamo, vieni. Dai. Guardati le spalle. Occhio, ecco la caverna, vieni. Qui, qui, dai, 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 dai. Entra. Presto, svelto, svelto. Siamo al sicuro? Sì, credo di sì. Sì. Sì.